Buonasera, benvenuto Presidente Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. Buonasera Monica Guersoni, giornalista politica del Corriere della Sera. Buonasera Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Buonasera Massimo Giannini, direttore della Stampa. Allora, giorno 56 della guerra in Ucraina e mentre nel Donbass si combatte duramente la politica italiana, si infiamma per una spy story che riguarda lei, Presidente Conte, ma anche Trump, Putin, Zelensky. Allora Presidente Conte, parliamo subito di questo Russiagate, ovvero delle presunte interferenze russe nelle elezioni americane del 2016 e del tentativo di Trump nel 2019, quindi quando lei era capo del governo, di ribaltare le accuse e quindi il governo italiano, è stato in qualche modo coinvolto, tant'è che è stato mandato da Trump, quello che sarebbe il ministro della giustizia Barr, due volte in Italia per incontrare la nostra intelligence. lei ha detto, uno, che non la preoccupa questa vicenda Barr, due, Repubblica ieri ha pubblicato questo scoop, che sarebbe che il vecchione, capo allora dell'intelligence, si è incontrato non protocollato un'altra volta con il ministro della giustizia americana Barr in un ristorante vicino a Piazza delle Coppelle in centro e lei ha sempre, non ha mai raccontato questo al Copasir, perché? Perché non ne sapeva niente? Provi a dirci un po' di cosa stiamo parlando. Eh sì, perché sennò i telespettatori credo ci seguiranno con difficoltà. Stiamo parlando di una vicenda, quando lei parla di questioni, elezioni americane, Trump, quelle cose lì, eccetera, attenzione, l'Italia non c'entra nulla, io non c'entro nulla. Qui stiamo parlando di un perimetro di confronto molto più specifico. a un certo punto la Tony General Barr americano sarebbe un po' un ministro di giustizia con la particolarità che sotto ha anche l'FBI che svolge attività di intelligence e quindi anche di controspionaggio. Cosa fa Barr? Con una lettera che arriva da noi... No, però non mi racconti tutto, perché questo lo sappiamo, lo leggiamo sui giornali da tanti... Però posso dire una cosa, siccome se vuole parliamo del ristorante, ma è l'unica cosa nuova, ma vogliamo dire un attimo che una vicenda... Ma lei questa cosa del ristorante lo sapeva o non lo sapeva? No, ho già detto che non ero specificamente informato, però ci arrivo. Questa questione, tre anni fa, è stata vivisezionata dal competente organo parlamentare che è il Copassi, che ha... io ho fatto anche una conferenza stampa, abbiamo chiarito. Barr ha chiesto delle informazioni precisando, peraltro, quindi non c'entra niente la vicenda di ex presidenti del Consiglio nostri, eccetera. Non hanno mai messo in discussione, nelle premesse, l'operato delle autorità italiane, politiche, istituzionali, eccetera. Volevano uno scambio di informazioni come responsabile dell'intelligence che fa capo all'FBI. Qualche informazioni volevano gli americani? Beh, guardi, la cosa è secretata, ovviamente. Quello che le posso dire è che c'è stato un primo incontro il 15 agosto e poi un secondo incontro... E questa però è cosa nota, quindi lei non mi sta dicendo niente di nuovo. Cosa volevano sapere? Il clamoroso, e beh, le ho detto, io non posso dirle, volevano delle informazioni che non riguardavano le autorità italiane, attenzione. I nostri, dopo il primo incontro, dopo il primo incontro c'è stato, dove si sono definite le regole di ingaggio, il 15 agosto arriva questo incontro, ce n'è stato un secondo a settembre con tutte e tre i vertici dell'intelligence, nel corso del quale poi c'è stato il reale confronto. Ovviamente i nostri non hanno aperto i nostri archivi, non hanno dato documenti, si sono limitati allo stretto necessario rispetto al nostro prezioso alleato. Quindi tutto è inutile. Per quanto riguarda il clamoroso scoop, ieri di Repubblica, che è venuto fuori che il 15 agosto, dopo l'incontro nella sede ufficiale dell'intelligence, si sono spostati per cortesia istituzionale, c'è stato un appendice conviviale. Pensi un po', in un noto ristorante del centro, le delegazioni presenti... Con lei non saperlo, ha mantenuto la delega ai servizi, può non sapere che il capo del DISS va a cena con il ministro di giustizia americano? Guardi, allora la sorprenderò, io non sono mai stato informato, se poi sono viste a colazione o a pranzo o a cena, per quanto riguarda qualsiasi autorità straniera, per quanto riguarda tutti i vertici dell'intelligence. Il tema vero è, attenzione, forse la cosa che crea un po', come dire, un alone di mistero, è che normalmente noi siamo abituati a collegare all'incontro a un ristorante o a una cosa riservata, quella sì che è una notizia. Chi pensa a questo pensa una cosa fuori dal mondo, perché se uno vuole un incontro riservato non va al ristorante. Scusi, c'era stato appunto già l'incontro nella sede, lo scambio di informazioni confidenziali riservate è stato lì, poi la questione se sono stati a cena per cortesia istituzionale, dove Vecchioni ha dichiarato all'allora direttore che non c'è stato scambio di informazioni né confidenziali né riservato, non mi sembra che sia un clamoroso scoop. Allora, Massimo Giannini, cerchi di spiegare un po' meglio perché dobbiamo parlare intanto di questa questione, cosa c'è di rilevante e cosa c'è che il Presidente Conte ancora non ha chiarito? Ma intanto io mi metto nei panni di un cittadino comune che ascolta da casa e non capisce niente, perché possiamo almeno dire che questa è una vicenda piuttosto opaca, che non riguarda naturalmente soltanto l'operato del nostro governo di allora, riguarda principalmente l'operato del governo degli Stati Uniti di allora, qual era la posta in gioco? L'idea che Trump si era fatto, all'epoca Presidente degli Stati Uniti stessi, che ci fosse stata ai suoi danni nelle elezioni del 2016, quello che si chiama all'epoca, è stato definito il Russiagate, invertendo l'onere di una prova che invece tendeva a dimostrare che un agente italiano o comunque di origine maltese che lavorava in Italia, avesse in qualche modo ostacolato l'elezione di Hillary Clinton. Trump l'ha rivolta a suo vantaggio dicendo hanno provato a fregare me. Allora chi ha provato a fregare lui? I governi europei all'epoca vicini alla filiera Obama-Clinton e quindi il governo italiano ai tempi di Matteo Renzi, il governo inglese e così via. E quindi parte questa indagine impropria da parte di un ministro della giustizia americano che viene in Italia a chiedere conferma al governo italiano e ai servizi segreti italiani di questo complotto ai danni di Trump, fantomatico complotto ai danni di Trump. La traduco in maniera molto semplice e brutale. Presidente Conte, secondo me, io faccio fatica a immaginare che ci sia stata l'idea di barattare con gli americani la nostra disponibilità a raccontargli chissà quali segreti a proposito di quel presunto complotto con il sostegno alla riconferma del Presidente Conte, anche nel Conte 2. Il famoso tweet Giuseppe, come la chiamava Trump amabilmente. Esattamente, che è avvenuto alla fine di agosto. Quello che però mi sento di poter dire è che in tutta questa vicenda, come in tutte le vicende che in quella stagione hanno riguardato i nostri rapporti con la Russia da una parte, con la Cina dall'altra, con l'America di Trump dall'altra ancora, sono stati caratterizzati da una certa disinvoltura, in qualche caso da una certa persino connivenza, leggerezza, spregiudicatezza, chiamatela come volete. Perché? Perché stavamo dentro un flusso che portava il nostro governo giallo-verde dell'epoca dentro quella che Steve Bannon, che era l'ideologo di Trump, definì l'internazionale sovranista, dove tutti i populisti e i sovranisti di allora dovevano lavorare insieme per scardinare l'Unione Europea e i patti atlantici che avevano retto il nostro sistema fino ad allora. Lei, Conte, era capo di un governo composto e sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Però scusate, si possono fare direttore? Lei può fare valutazioni politiche? Può metterci dentro Bannon, sovranismo, populismo, per carità. Però io le sto dicendo, a rigore, e le sto dando un'informazione, di cui sono a conoscenza per il mio ruolo, che il signor Barr, all'epoca a Tony General, quando ha trasmesso una lettera ufficiale tramite canali diplomatici, tramite il nostro ambasciatore a Washington, nella premessa ha detto che non indagava, non voleva informazioni e non metteva in discussione l'operato dell'autorità. Però lei non pensa, Presidente. Scusi però, un attimo, politiche istituzionali italiane, nella premessa, voleva però uno scambio di informazioni perché stava facendo un'inchiesta intera. Ma è ovvio che non lo mette nella lettera. Quindi questa questione qui, per esempio, per intenderci su ex nostri presidenti del Consiglio che si sentono chiamati in causa come Renzi, è una questione che Renzi si è messo in mezzo lui, ma non è stato mai menzionato da nessuno, attenzione. Ma lei non pensa, Presidente, che essendo la richiesta arrivata dal Ministro di Giustizia degli Stati Uniti d'America, l'interlocutore di un'istituzione di tipo politico non poteva mai essere in modo diretto il capo dei nostri servizi segreti, doveva essere il suo omologo Ministro della Giustizia italiana. Direttore, le rispondo. È stata questa una questione oggetto di approfondimento perché ovviamente il perimetro di questo incontro è stato studiato e ristudiato. Le posso assicurare che quando ho fatto il Presidente del Consiglio non sono stato né disinvolto né azzardato in nessun atto, soprattutto di questo rilievo. Allora, l'attore di generale, se avesse incontrato il Ministro di Giustizia, allora a buona fede, si avrebbero scambiati la mano, non trattandosi di cooperazione giudiziaria, un attimo dopo il Ministro di Buona Fede l'avrebbe dovuto rivolgermi per i servizi, perché specificamente lui reagiva per chi ha sotto di sé il braccio operativo dell'FBI come intelligent, non c'è un omologo in Italia di un attore di generale così strutturato. Presidente, abbiamo capito che l'allora Ministro di Giustizia americano voleva incontrare l'intelligence italiana per avere delle informazioni, diciamo, riservate, poi gliele le hanno date e non gliele le hanno date. Nella sua qualità di responsabile dell'FBI come intelligence. Ho capito, ho capito, Lucio Caracciolo, è tutto così chiaro? Perché questo polverone si alza in questo momento? E tu che cosa pensi? Stiamo parlando di un pasticcio all'italiana, stiamo parlando di una spy story internazionale, perché abbiamo visto tanti nomi in gioco, da Trump a Obama, Conte, Renzi, Putin, Zelensky, perché poi è una lunga storia. Beh, se fosse chiara una vicenda in cui le cose importanti sono segretate, vorrebbe dire che siamo un po' fuori pista, è chiaro che stiamo toccando un metallo piuttosto caldo e quindi questo conta in questa vicenda e conta soprattutto il fatto che siamo in guerra contro la Russia in questa fase e quindi questi temi tornano molto all'orizzonte. Il caso, lei citava, tu citavi Zelensky, ricorderemo tutti quanti come durante questa vicenda il presidente Trump chiamasse Zelensky per dire non è che puoi dire al tuo procuratore generale se dà un'occhiata a che cosa ha combinato il figlio di Biden in Ucraina con i suoi traffici, eccetera, eccetera. E questa storia fra l'altro è tornata... E dicendo che per il momento però anche 400 milioni di dollari in invio di armi erano congelati, perché Trump aveva congelato tutto questo. Assolutamente, era un quid pro quo, diciamo, era uno scambio. E quindi, insomma, credo che abbia molto a che fare con la guerra in corso, questa nuova fiammata di interesse per questa vicenda, di cui non sapremo mai, credo, fino in fondo, le cose che vorremmo sapere, perché, come dice il presidente, sono segrete. E cosa vorremmo sapere, Lucio Caracciolo? Beh, tanto che cosa si sono detti ovviamente in questo colloquio, che cosa cercasse effettivamente Barr e poi soprattutto che fine ha fatto questo signor Mifsud, che a questo punto mi domando anche se esiste, ma esiste. Sì, sì, questo professore maltese che lavora per la università... Mi fa piacere che l'abbia precisato. Per la precisione, l'ho dichiarato anche pubblicamente, né il signor Barr, che ho già chiarito, né il presidente Trump a me ha mai parlato di queste vicende. Quindi, attenzione, non c'è mai arrivata a me personalmente, non è mai arrivata nessuna richiesta impropria. E invece Trump ha fatto delle richieste. Lei invece con Zelensky ha ricordato, diciamo, l'ho letto anche io dei giornali, una postura molto più diretta, diciamo. Beh, è stata Trump l'impeachment tutta quella vicenda, ricordiamolo, no? Sì, il contesto è ovviamente diverso, vuole dire. Si parlava prima di, diciamo, costumi istituzionali, ecco, Trump aveva dei costumi propri. Dei costumi totalmente propri e per niente istituzionali. Monica Verzoni? Anche io non penso che ci sia, dal punto di vista del tempismo, nessun complotto ai danni del presidente Conte. non è che il Corriere della Sera e la Repubblica si mettono d'accordo e fanno un 1-2 lo stesso giorno, negli stessi giorni. E che le due vicende, perché ricordo che c'è ancora aperta la questione della delegazione sanitaria. E così veniamo, vuoi riassumere brevemente la missione russa? Nel marzo del 2020 arrivò questa delegazione che atterrò a pratica di mare, aeree, eccetera, russa, di medici, ma supportata da un numero di militari molto più cospicuo rispetto ai sanitari che erano arrivati. Quindi si parla di 200 militari russi che arrivano in Italia. Sì, a fronte di 28 sanitari, eccetera. Esatto, 28 medici che dovevano dare una mano all'Italia. Portarci aiuti, mascherine, sanificare, eccetera. Dopodiché questa delegazione arriva con dei modi e dei toni assolutamente inusuali, si è scoperto dopo. A parte che nessuno lo sapeva che ci fosse questa delegazione, è stato scoperto dalla stampa, c'è qui il direttore. Si arriva a questa delegazione, spende l'Italia 3 milioni di euro per il vitto, l'alloggio, il carburante dei voli. E ci portano i russi, che cosa? Mascherine, qualche respiratore, qualche tuta. È tutto molto ambiguo, tant'è che non sappiamo... Questi sono fatti, scusi, perché è ambiguo. Scusi, però 3 milioni, forse con 3 milioni, avremmo potuto comprare questi dispositivi. Aspetti un attimo, Presidente, mi scusi. Dopodiché... Non si trovavano, vorrei dire, però prego. Sì, dopodiché che succede? Che questi russi si vogliono allargare, vogliono entrare negli uffici pubblici, vogliono scendere nel sud del paese. Il ministro Guerini in qualche modo dice no, però aspettiamo un attimo, vediamo. E la Russia a riaccendere la questione qualche settimana fa, quando un alto funzionario, neanche altissimo funzionario russo, se ne esce con le minacce all'Italia, segnatamente al ministro Guerini, alludendo a quella missione. Voi italiani siete degli ingrati, perché noi vi abbiamo portato degli aiuti, e lascia intendere che ci sono dei segreti. Almeno questo è una interpretazione, non lo ha detto, è una interpretazione che alleggia non mia, non mia. Di cui le chiedo conto. Ci sono dei segreti che la Russia, l'intelligence russa, è riuscita a carpire nell'ambito di quella missione durata due mesi. Lei, Presidente, ha avuto a cura la sovranità nazionale, come ne ebbe cura, non so, Craxi a Sigonella nell'85. Questi sono gli interrogativi politici che rimangono aperti, a cui forse lei dovrebbe dare una risposta. E le sembrava comunque, aggiungo una terza questione, le sembrava normale che questa missione russa, che doveva venire, appunto, missione sanitaria, sia arrivata con 200 militari russi e 28 medici? E con quei toni di cui Fiorenza Sarzanini ha dato conto sul corriere. Rispondo alla dottoressa Quersoni. Guardi, dottoressa, io posso aver commesso degli errori come Presidente del Consiglio? Ho sempre detto che non sono infallibile, però se una cosa c'è che ho sempre perseguito in tutte le sedi e in tutti i consessi è l'interesse nazionale. Quindi il solo fatto che venga messo in discussione, che ho potuto, scusi, barattare l'interesse nazionale, io lo consiglio un'infamità, un'infamità, che respingo assolutamente. Per quanto riguarda la missione, io vorrei oggi, il suo quotidiano, ha dedicato una decina di articoli e probabilmente ne dedicherà altre tanti a questa missione e si sta appassionando. Questa missione, anche questa, è stata minisezionata dal Copasir, il quale ha fatto anche una relazione a fine anno, ha sentito il Ministro della Difesa, i direttori dell'intelligence, e non ha ravvisato che questa missione, mi sembra che neppure voi, nonostante tutti gli articoli, abbiate mai ravvisato che questa missione ha travalicato i confini sanitari. Ora ritorniamo indietro. Ma sì, ma perché c'erano tutti questi? Guardi, ma il Presidente Putin nella conversazione non mi ha detto un mando 200 medici che opereranno dei pazienti. Lo disse già che erano delle unità specificamente attrezzate, anche del Ministero della Difesa, per la bonifica, sanificazione. Quindi non disse che verranno, erano delle unità attrezzate per... Manco sapevamo cosa stava arrivando. No, invece no, attenzione, perché un attimo dopo la conversazione fu demandato ai ministri competenti, nel nostro caso in particolare al Ministro della Difesa, per gli accordi attuativi specifici. Allora aspetti. E la ragione per cui questi convogli non sono stati mai abbandonati a se stessi, hanno agito sotto il nostro controllo militare, sono andati nei luoghi che abbiamo indicato, sotto le direttive... Aspetti, Quindi non c'è stato spionaggio, Presidente, lei ne è sicuro. Guardi, non sono emersi elementi di spionaggio. La fermo, domanda di Caracciolo e di Giannini, aspetti che abbiamo mille domande. Scusi, ho solo predisposto che tutti i nostri comparti alla Difesa, agli Esti, all'intelligenza, alla protezione civile ovviamente seguissero e confinassero in ambito sanitario questo intervento. Lucio Caracciolo e Giannini? Scusi, e rispengiamo al mittente qualsiasi accusa di ingratitudine. Questo non lo permettiamo a nessuno. Non lo permettiamo a nessuno perché si sono offerti loro, noi li abbiamo accettati dagli ucraini, dagli americani, dai cubani, in giro per il mondo abbiamo avuto aiuti da tutti. Oggi non siamo in debito con nessuno e sicuramente questo, se questo è sottinteso, non ci sono né segreti, nessun segreto per quanto ci riguarda e soprattutto questo non può mai essere messo sulla bilancia rispetto a un'aggressione militare che è fermamente da condannare. Ci ho detto, io non riesco a capire come si possa definire delegazione o missione una spedizione militare di 230 soldati in Italia di un paese che non è, sì noi abbiamo dei rapporti sempre molto speciali con la Russia ma che non è un nostro alleato e conoscendo non personalmente il presidente Putin mi pare difficile che un uomo di intelligence come il presidente Putin venga a dire a un suo omologo italiano guarda ti sto mandando delle spie però è anche tanto ovvio che in quei 230 se non c'erano delle spie vuol dire che i russi erano completamente fuori di testa. direttore che abbiamo preso delle precauzioni per confinare per accompagnare prima li accogliamo e poi prendiamo le precauzioni e beh allora dovevamo respingere io certamente di fronte a 230 militari hanno dato degli aiuti anche la Cina ma lo so hanno mandato 230 militari cinesi però guardi allora aspetti che così risponde anche a Giannini Massimo? no ma non solo vorrei aggiungere una cosa presidente anche qua io non penso a chissà quali dietrologie penso solo ad una sudditanza di tipo politico culturale che in quel momento rispondeva all'idea che questo che quel governo aveva delle nostre relazioni internazionali quando arriva la missione russa arriva con un Antonov che sono quegli quegli aerei militari giganteschi che atterra a Ciampino per portare 30 ventilatori polmonari e qualche centinaio di migliaia pratica di mare pratica di mare sì scusi pratica di mare ricevuto in pompa magna dal ministro degli esteri Di Maio allora è chiaro che nei confronti della Russia noi avevamo un atteggiamento ripeto a dir poco succube e ci siamo poi preoccupati dopo di capire di che natura fosse quella missione che era arrivata qui e questo lei capisce che alimenta anche in questo caso i sospetti che magari non ci sono ma che invece forse in quel momento e a maggior ragione oggi dopo tutto quello che è accaduto riprendono corpo che sono venuti a fare 230 militari russi guidati da un generale ma scusi direttore ma lei si è preso la briga del suo giornale di chiamare le autorità sanitarie di Bergamo? ma certo noi abbiamo fatto le autorità sanitarie di Bergamo purtroppo non mi sono occupato dell'aspetto attivivo però ho chiesto alle autorità sanitarie di Bergamo e mi ricordo che mi dissero che erano stati confinati in ospedale da campo quindi non è stato consentito l'ingresso in ospedale però è stato molto utile il loro rapporto in un momento in cui le vorrei ricordare adesso lei sorride però noi a Bergamo abbiamo visto le bare c'erano persone che non riusciravano eppure a ricoverare oggi con senno di poi metterci tutti a sorridere sulla missione russa io non sto sorridendo per questo era una tragedia in mare ma proprio per questo non si capisce io non lo so diciamo sul piano dei vantaggi non c'è rapporto non c'è rapporto tra l'impegno militare e tutto ciò che ci hanno portato per aiutarci e questo è il grande sospetto Monica il Presidente cita giustamente le autorità sanitarie di Bergamo c'era un dramma che nessuno di noi ha dimenticato ma il sindaco di Bergamo ha detto fu aiuto fu propaganda o fu intelligence fu intelligence una domanda una domanda che non ha ancora risposta il sindaco Bori ha sollevato un sospetto legittimo ma scusate lei dice fu un aiuto ma io posso offrire una prova mi state chiedendo una prova negativa di una cosa come faccio a provare che non c'è stato spionato voglio dire il Coopasir ha indagato ha verificato adesso il Corriere della Sera sono 10 articoli ne farà altri 20 e 30 ma se non riuscite a trovare elementi di criticità gli elementi di criticità li abbiamo trovati non ci si può legittimamente svegliare e dire io ho il sospetto ma attenzione i nostri comparti io ho più la fiducia dei nostri comparti che hanno seguito palmo palmo questi russi questi 228 russi quanti erano voglio chiedere così ti ridò la parola Lucio Caracciolo ma aggiungo anche la domanda siccome in questi anni il Movimento 5 Stelle e Conte insomma sono stati spesso accusati in politica estera di avere diciamo una un po' troppa flessibilità chiamiamola così accuse anche ben peggiori io sono soft perché poi provvederà Lucio Caracciolo a sostanziare ecco l'attuale posizione sulla guerra in Ucraina è sufficientemente chiara o è ambigua hanno risolto tutti questi problemi anche perché appunto Di Maio è ministro degli esteri filo atlantista tantissimo adesso non lo era abbiamo la possibilità di verificarlo in diretta presidente posso cioè lei è a favore delle sanzioni è a favore di armare gli ucraini vuole la vittoria di Kiev allora io dall'inizio non mi avrete sentito fare un'affermazione diversa da subito ferma condanna dell'aggressione militare sostegno pieno all'Ucraina finanziario economico umanitario ci è costato e ci costa fatica per quanto riguarda gli aiuti militari militare scusi e gli ho detto ma guardi l'ho detto dottoressa l'ho detto decine di volte non abbiamo mai avuto anche armi pesanti perché siamo ho detto come il momento 5 stelle anche a favore degli aiuti militari questo passaggio per noi è più sofferto quindi è ovvio che di fronte al tentativo che sta ponendo in atto Zelensky la popolazione di autodifendersi la legittima difesa noi ho detto dall'inizio non ci siamo girati dall'altra parte quindi non ci sono ambiguità direttore non c'è stata mai un'ambiguità su questo punto va bene e allora siamo tutti felici embargo totale embargo del gas russo subito sì o no allora se io potessi suggerire domani mattina embargo totale però è un atteggiamento quasi propagandistico perché se non c'è la soluzione sul tavolo qui è chiaro che dire domani mattina embargo è facile io ho dato anche la soluzione scusi ho dato anche la soluzione cioè ho detto vogliamo l'embargo totale lo possiamo raggiungere come a maggio c'è un altro Consiglio europeo quello che si è svolto non ha avuto successo bisogna chiamarsi tutti gli europei soprattutto i più riottosi a partire dal tedesco Scholz all'olandese Rutte cosa devono fare? e devono accettare un energy recovery fund un piano europeo energetico acquisti comuni stoccaggi comuni ho capito ma anche questo è propagandistico è propagandistico ma sì ma come noi abbiamo avuto un recovery fund era propagandistico? non è stata una cosa concreta? perché non possiamo adesso raggiungere un piano energetico condiviso? i tempi di realizzazione sono lunghi come ci dimostra il PNRR e quindi noi intanto mi faccia capire quindi noi intanto continuiamo a dover comprare il gas ai russi questo è perché Scholz questo sta dicendo sta parlando in chiaro soprattutto anche all'Italia il presidente del consiglio Draghi governo di cui voi fate parte dice noi facciamo quello che decide l'Europa ben sapendo che l'Italia oggi non può fare a meno del gas ma l'Europa siamo noi cosa significa noi decidiamo cosa fa l'Europa noi siamo un paese fondatore dobbiamo andare in Europa a dare un nostro contributo e noi andiamo al rimorchio dell'Europa noi siamo l'Europa ma Draghi lo sta facendo abbastanza bene e le sto dicendo scusi quando lei dice guardi col PNRR quanto tempo ci vuole ma per l'attuazione per gli appalti appunto le sto dicendo ma io sto dicendo se domani mattina ci si mette d'accordo su un piano europeo con acquisti comuni il potere negoziale si moltiplica all'infinito un price cap lo possiamo decidere domani mattina cioè noi già da subito possiamo realizzare alcuni passi poi ovviamente direttore per quanto riguarda alcune fasi attuative occorrerà più tempo però questa è la soluzione se vogliamo l'embargo altrimenti il resto è propaganda Massimo Giannini rapida domanda Monica e Lucio Sì trovo congruo quello che ha appena detto il presidente Conte a proposito dell'energia non mi è ancora chiaro se noi siamo d'accordo con l'idea che è soprattutto americana ma non solo americana anche europea di continuare a inviare armi per contribuire alla resistenza del popolo ucraino e alle richieste di Zelensky su questo ancora non ho capito qual è la linea del movimento cioè fin qui sì ma poiché la guerra continuerà a lungo siamo d'accordo sul fatto che dobbiamo continuare a sostenere in modo massiccio con le armi la resistenza ucraina direttore se noi abbiamo sin dall'inizio deciso che vanno aiutati anche sul piano militare non è che arriva il decimo giorno il ventesimo giorno il cinquantesimo giorno diciamo no adesso basta ci giriamo dall'altra parte però attenzione la prospettiva importante che ci diamo gli obiettivi che vogliamo perseguire aiuti anche militari che per noi sono sofferti ma contemporaneamente noi dobbiamo lavorare per una soluzione politica perché per voi sono sofferti me lo dica in una frase scusi perché perché sono sofferti perché nel nostro carta dei principi dei valori c'è la pace come stella polare quindi non certo alla guerra detto questo detto questo però scusate termino il concetto cioè contemporaneamente bisogna spigere per una soluzione politica bisogna impegnarsi la comunità internazionale deve tutta convergere per una soluzione politica rapidissima il presidente Draghi ha detto che in questa fase è quasi inutile parlare con Putin lei condivide? ma guardi io ritengo che non è questione che il presidente Draghi dica ritengo inutile io credo che tutti e il presidente Draghi deve fare uno sforzo per mantenere questo canale ma non da solo nel quadro dell'Unione Europea e della comunità internazionale bisogna coinvolgere tutti gli attori i protagonisti per questa soluzione non possiamo abbandonare la speranza di un negoziato che ponga fine con cessazione delle ostilità ritiro delle truppe e ovviamente riconoscimento del principio di autodeterminazione Putin deve ritirarsi da tutti i territori anche quelli occupati nel 2014 guardi sicuramente bisogna mettersi intorno a un tavolo definire un negoziato adesso non possiamo credo qui in questa sede scrivere i termini del negoziato mi dica una cosa domenica la Francia dovrà scegliere tra il presidente uscente Macron e Marine Le Pen lei ovviamente voterebbe per Macron se fosse leader di un partito francese darebbe indicazione per votare Macron se fosse leader di un partito francese darei sicuramente un'indicazione di voto ma sono leader di un partito italiano vabbè no scusi no però scusi però guardi io ho anche dichiarato chiaramente delusione profonda chiaramente no non faccia il tifoso direttore ma no ma no tra Macron e Marine Le Pen non ha dei dubbi le nostre politiche economiche e sociali sono scusi sono no ma non mi parli delle politiche economiche è molto semplice domenica i francesi devono scegliere tra Macron e Marine Le Pen il Movimento 5 Stelle con chi sta? no il Movimento 5 Stelle non partecipa all'elezione francese ma lei è un leader di un grande movimento di un grande partito mi scusi per quanto riguarda il partito della Le Pen le nostre politiche sono distanti perché noi stiamo in un fronte progressista quindi siamo distanti però quello che ho voluto dire nonostante la distanza lei fa come Melanchon dal partito della Le Pen io mi sono permesso di dire che delle questioni poste dalla Le Pen sono delle questioni che vanno affrontate soprattutto più Le Pen che Macron più Le Pen che Macron giusto ho precisato che siamo distanti da una forza conservatoria ma è così che i temi che sono stati posti ma è così difficile dire tra i due che parla di difficoltà economiche sociali dei cittadini francesi siamo in chiusura mi scusi presidente Conte no lei è totalmente ambiguo su questo perché siccome rappresentano due mondi molto diversi Marine Le Pen e il presidente e il presidente d'uscente Macron allora constatiamo che il leader del Movimento 5 Stelle non prende una posizione chiara le ho detto che siamo distanti dal partito della Le Pen va bene abbiamo capito Conte rubo la domanda di Monica Guerzoni quindi pronti pronto a un governo con Giorgia Meloni non scherziamo grazie grazie presidente Conte